Avviate i lavori per il ripascimento della fascia costiera. L'erosione sta consumando la spiaggia. Fra un po' dovremmo collocare i nostri ombrelloni in acqua. È l'appello accorato dei titolari degli stabilimenti balneari di Pestum che anno dopo anno si vedono ridurre il tratto di demanio che hanno in concessione e con esso la possibilità di collocare le attrezzature da spiaggia dagli ombrelloni per arrivare poi ai lettini e sdraio. Rischiamo di dover chiudere i battenti, spiega il presidente del consorzio dei lidi di Pestum, Albertino Barlotti. Ogni anno diminuisce il numero di ombrelloni che possiamo collocare sul tratto demaniale in concessione. Ancora il presidente. Personalmente per la stagione 2015 ho dovuto rinunciare ad una fila di ombrelloni. Il progetto contro l'erosione costiera era a buon punto. Chiediamo che l'iter prosegua e che al più presto siano effettuati gli interventi per il ripascimento della costa e la sua protezione. Come imprenditori balneari di Pestum ci uniamo all'appello del distretto turistico Sele Picentini, fatto al neosindaco di Eboli Massimo Cariello. La salvaguardia della fascia costiere e del territorio è fondamentale per il proseguimento delle attività balneari. La possibilità di collocare gli ombrelloni, afferma Pasquale Santo Mauro, titolare dell'Ido Mimosa a Foce Sele, quest'anno si è dimezzata. Mentre l'anno scorso ne ho potuti collocare circa un'ottantina per quest'estate, al massimo una quarantina. Stessa problematica per il titolare dell'Ido Nerei di Giuseppe Ruggiero. Il mare continua a consumare le spiagge. In alcuni giorni l'acqua arriva fin sotto il barra e non è mai successo. È necessario che i lavori abbiano inizio a presto. L'opera, che prevede un investimento di 70 milioni di euro, riguarda il risanamento del tratto del litorale tra i comuni di Ponte Cagnano, Battipaglia, Eboli, Capaccio e Agropoli. Lungo il litorale di Pestum è prevista la realizzazione di 15 pennelli in pietra collocati dalla Foce del Sele a Ponte di Ferro.